... ... ... Premiazione, programma di 1952 per i bambini al podio, D'Armaso, Arrakata Superiù, Sardano 1, per la categoria Carmel, francisca, massavigli che viene parata cittadino con un atto pasquale a Giorgio Pagno Antonio Tarnanza per la rubiazione successiva si dice Darnese caroletta Tatana 5 Silvia Pagno Anneli Simona Brannico Diana Tatana numero 4 Silvia Pagno Bani Alessandro Pivolo Francesco Giorgio Pagno 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.